Mi ringrazio anche per gli applausi, sono stati molto piacere, mi hanno fatto piacere anche l'istruzione pubblica latina e malgrado che la squadra lo avesse perso, sono stati comunque generosi, mi ringrazio. Non dobbiamo vincere perché ovviamente stiamo potendo andare più e nella situazione migliore, per cui ovviamente potremmo fare sconti, partita dura come mi aspettavo, partita difficile come mi aspettavo, con atto ovviamente per raggiungere la tranquillità speriamo che sia capitata nel giro, partita in effetti difficile, la squadra secondo me è buona perché ha tanto talento, tanto talento. Quindi questi punti in contatto quando ci sono fuori casa non è mai semplice, quindi i bravi e i ragazzi che hanno avuto costruire un piccolo vantaggio nel primo tempo per cui più o meno mantenerlo e quindi rinforzare poi dopo la rimonta dinamica, quindi dobbiamo dire che ovviamente i miei giocatori mi hanno dato una buona gara di solidità e di metter fuori la partita che assolutamente mi ha aspettato. Grazie.